243 candidati sindaco e 248 liste per 97 comuni della provincia di Como che vanno alle urne il prossimo 25 maggio dalle 7 alle 23. Nella stessa giornata i cittadini di questi paesi quindi oltre a votare per le elezioni europee sono chiamati ad eleggere sindaci e consigli comunali. Chiusi i termini per la presentazione delle liste entra dunque definitivamente nel vivo la campagna elettorale. La carica dei 243 vede soltanto 45 donne un numero ancora piuttosto esiguo. E Mariano Comense il municipio più grande di questa tornata amministrativa con una popolazione di 23.500 persone. Sono 7 i possibili futuri sindaci supportati da 12 liste. Si tratta dell'unico comune che potrebbe andare a ballottaggio l'8 giugno qualora nessuno raggiungesse la maggioranza assoluta. Sono invece 13 le realtà in cui c'è soltanto un candidato senza altri rivali 11 uomini e due donne ovvero Cagno, Castelmarte, Cerano, Dintelvi, Colonno, Corrido, Dosso del Liro, Luisago, Masliani, Comerone, Pognana, Lario, San Nazaro, Valcavarnia, Rezzago, Valmorea. È possibile poi evidenziare un altro dato se da una parte il numero dei candidati sindaco vede ancora in netta minoranza al gentil sesso. Il Parlamento votando al fotofinish il cosiddetto disegno di legge del Rio ha deciso di rimescolare le carte all'interno delle giunte. Nei comuni superiori a 3.000 abitanti gli esecutivi dovranno essere necessariamente composti da uomini e donne in misura quasi paritaria. Ogni genere, dice la legge, non potrà avere meno del 40% di rappresentanza. Un'autentica rivoluzione per i governi comunali perché sino a questo punto la presenza femminile nelle giunte era piuttosto limitata. Si vota, è noto, il 25 maggio dalle 7 alle 23. Sono oltre 245.000 gli elettori per le comunali. Per quanto riguarda invece le elezioni europee, i lariani chiamati ad esprimere la propria preferenza sono circa 490.000.